Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo ottavo episodio di Madfather Nello scorso episodio abbiamo dovuto combattere strenuamente contro questo tipo che correva veramente veloce Ce l'abbiamo fatta alla fine dello scorso episodio a incastrarlo in una delle camere e oggi ci troviamo qua Tanto per cambiare davanti a una porta Non perdiamo tempo, lasciate un bel mi piace, mi raccomando come al solito se la serie vi sta piacendo Se vi sta tenendo in tensione come sta tenendo me Oddio Perfetto, cos'è successo? Perché non posso passare qua? Non puoi passare Sei tu che hai parlato Probabilmente sei tu che mi trattieni dall'andare lì Non puoi passare Perché sei sulla mia strada? Non puoi passare, non puoi passare, ok va bene Capito No ancora tu ti prego Devi distruggere quella bambola se vuoi oltrepassarla Bruciala per bene e lo spirito lì dentro brucerà anch'esso E a quel punto se ne andrà la barriera invisibile attorno a quella porta Fermati Come diamine faccio a darti fuoco? Come diamine faccio a darti fuoco? Credi in quella là? Abbiamo ottenuto la bambola creepy Cioè praticamente me stesso No vabbè è la bambola spaventosa Io ho paura Ok Raga io ho una paura Ero una matta Sapete cosa vuol dire? Cazzo si è aperta sta porta Ok Un gatto che mi angola Ecco il gatto è morto Perfetto Cazzo Immagino di dover fare push 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 Ecco infatti Me l'aspettavo Merda Push 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 Dai tirati su Tirati su A parte che come fai a perdere la vita? Al massimo cadi e la perdi tutta ad un colpo Ma ok Ok Corvo maledetto Vieni qua No ti C'è qualcosa lì Che odio No raga quanto andava veloce quell'altra Sto cosa no Ok Devo cercare di capire dove cazzo va questa Torna indietro Ok devo entrare qua dentro Sì Veloce 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 Sembra una bambola Merda No 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 Dai Ma come facevo a saperlo Ragazzi Sono morto Adesso mi spieghi gentilmente come facevo a sapermi Porca puttana Ma devo rifarmi tutto Che voglia C'è qualcosa lì Io spero vivamente che sia l'ultima volta che vedo sto qua perché Veramente sono un incubo E mi mettono un'inquietudine che voi non potete concepire Perché Io non so Come Come si faccia Aspettate Fatemi ragionare Non so cosa si provi a guardarlo sto gioco Ma vi assicuro che a giocarlo si prova ansia Ma tanta ansia Soprattutto in questi momenti Passa Ok Adesso Fanculo No devo cercare di capire quella lì che cazzo di giro fa Non torni indietro vero Ma Porca troia Io pensavo che facesse tutti i giri strani E vabbè Rifacciamoci tutto un'altra volta Tanto per cambiare Dai Levati Allora raga La prima è un gioco da ragazzi La seconda pure Resta da capire la terza Ok Allora Questo qua va spostato ragazzi Perché poi dopo scendendo da lì Dobbiamo spostarlo per passare Vedete che ha un po' del pokemon ogni tanto Questo gioco Questo qua Ricorda molto la mn forza Per dire Questo qua ricorda gli allenatori che passano Insomma Del pokemon c'ha sto gioco Un pochino Ok Adesso dovrebbe tornare su Perfetto Ho capito che giro del cazzo fa Adesso Ti trollo così E perfetto Ce l'abbiamo fatta Ottimo Quella Quella come cazzo la evito adesso Spiega No eh No 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 Cazzo Non ci credo Il problema è Adesso non so che cazzo devo fare Sono Perché non posso andar lì Minchia Mi serve andar lì Sì 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 Ok Nooo Non è vero Non ci credo raga Che sofferenza Ok perlomeno ho salvato Che cosa stai facendo Perché la vuoi aiutare Salvala E Non riusciremo A tornare Salvala e non riusciremo a tornare Alla normalità Perché non Drag Oddio Drag Non so cosa voglia dire Vorrei tipo Di drogare Ma io dubito Che sia drogare Sarebbe molto più divertente Fermati Come sei curioso In quella stanza Merda C'è C'è un coltello Nel suo petto Tiralo fuori Sì È uno scalpello Non è un coltello Oddio Ma è la ragazzina lì Volevo far parte Della tua famiglia No 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 Ragazzi Io credo di aver capito Non vorrei aver capito così Ma io Temo Che questa ragazza qua Fosse Nostra sorella E che nostro padre L'abbia utilizzata Per i suoi esperimenti Spero Voglio aver capito male Voglio davvero aver capito male Spero di aver capito male Veramente Questa cosa è chiusa Perfetto Contiene cose sconosciute Vediamo se utilizzando lo scalpello No Ok Non si muove Non si muove Non si muove Non si muove nulla Ah ok Forse posso proseguire da questa parte adesso Sì esatto Questi versi bruttissimi Che diavolo è Cos'è? Ecco una chiave Prendi La chiave Oh cazzo Non ci credo Se l'hai mangiata Questo qua è il cane che c'era nella cucina E mo Mo un problema La chiave è andata E proviamo a seguire il cane Di scelta Non ne ho Il corvo Minchia raga Ogni volta che vedo il corvo Esulto come se non ci fosse Il futuro Grazie amore Eh vabbè Meno male che c'era il corvo Ho capito E sto coso Come lo evito Proviamo a farlo arrivare Ah ok Perfetto Sì Sì Con lo scalpello Fai qualcosa Ti prego Move Sì Fa che gli sia caduto In testa Eh vabbè Sai che siamo schiattati Allora facciamo passarli infame Velocemente Ok Sì possiamo farglielo cadere in testa È quello che ho pensato anch'io Allora riproviamo un attimo Ok Forse non devo andare troppo oltre Ah ok ragazzi Esatto Sì Perfetto Ok Per equilibrare la cosa Ci ho pensato Ci ho pensato appena L'ho visto Staccato dal resto Dei Degli altri E adesso A regola Dovremmo Riuscire A Staccare Sto maledetto Coso Ho sbagliato Ho sbagliato Eh eh Mi hai un po' ingroppato Ok Questi sono momenti In cui Ogni tanto La mia serietà Legata al gioco Se ne va a puttane Ma capitemi che Sono appunto Momenti Nel quale io Mantengo la serietà Sono stato un po' stupido Anch'io qua E lo ammetto Con tranquillità Perché effettivamente Avrei dovuto Aspettare Che gli cadesse In testa Ma Speravo In un'animazione Allora Perfetto Qua sono orgoglioso Dalla mia intuizione Ok E adesso Adesso Non sbaglio Caro mio Stavolta Non sbaglio Muori Proviamo Entrare qua dentro Non si apre Ok Io ho paura Di quel Cazzo Di cane Cosa c'è La È chiusa Certo Eeeh Cos'è Ok Lì c'è qualcosa Di Strano Oddio Ok Per fortuna Che ho fatto Forse 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 qua No Aspettate Tiriamolo fuori Allora Ok Ce l'abbiamo Questo qua Questo qua Verosimilmente Va qui Questa ciocca Di capelli Penso che Sia questa No No O forse Ah forse va Qui No Perfetto Questo nero a caso Lo metterei qui Tattico No Qui Ok Per fortuna Non è troppo Complicato Come puzzle Rimane solo Da capire Quel pezzo Strano Dove Diamine Va a finire Ok Questo qua Va giù Qui E rimane Un coso Fuori Che bello Ah no Non è vero Cosa dico Ok Perfetto E questo qua Va qui Ho sentito Un suono Da qualche parte Ok Si sarà aperta Qualche porta Dimmi che è questa Sì Ok Qua otteniamo Una gemma Perché ci sono Dei bones Lì qua No A parte Gli scherzi Queste sembrano Mandragole Si radica La pianta Eh vabbè Scelte Ne ho No Sì È una cazza Di mandragola Solo le mandragole Fanno ste cose Ah giusto È vero Che ci facevano Svanire Me l'avevo Dimenticato Sto passaggio Ah 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 Così Dal nulla Perfetto Perfetto Ok Rifacciamoci Molto velocemente Sto puzzle qua Ah ok Perfetto C'è l'opzione Risolvi velocemente Perché l'avevamo già fatto Perfetto Grazie gioco Ok Direi che quella cosa lì Non la faccio più Assolutamente Me la risparmio Tantissimo Ok Forse a sto punto Devo proseguire E sta cosa qua Era supplementare Questa porta qua Non si è aperta Facendo il giochino Di prima Ottimo Ti prego Dimmi che è la chiave Martello Allora Facciamo Una cosa tattica Ragazzi Io vengo qua A salvare Così Dovessi schiattare Contro sto cane Cosa molto probabile Ah Bene Ci avevo visto giusto Allora Sta di fatto Che quel cane Deve morirci No Stavo pensando Di colpirlo Con la motosega Raga Però Martello 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 Non penso Di poter Prendere a martellato Una porta Giusto Vediamo se È quella dietro Addirittura Che posso Prendere a martellato Oddio Ma raga Dubito fortemente Che si possa Aprire una porta A martellate E infatti È proprio così Direi anche Giustamente Oddio Io ricordo Una zona Caputtana Ste cose qua Non se ne sono andate Io non ci voglio credere No 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 Allora Io dubito Che si debba tornare indietro E non ho intenzione Di farlo Se anche fosse Prima Dopo l'episodio Veramente Una sofferenza Così non l'avevo mai vista Allora No Ok Devo ragionarci Un attimo Come ottenere Sta cazzo Di chiave Non ne ho idea Ho visto più game over In questi ultimi due episodi Che nel resto Della mia vita Ma la mia domanda è No non c'è un modo Per aggirarlo Scusami Non esiste un modo Per aggirarlo Oh Si accorge Della mia presenza Io riesco a scappare Potrebbe essere Una strategia Proviamoci Prova a scappare Prova a scappare Prova a scappare Prova a scappare Ok Ce l'abbiamo fatta Eh ma Non abbiamo risolto Un'emerita minchia Scappa di nuovo Scappa di nuovo Si accorge sempre Appena oltrepassiamo Quel punto Ovunque noi siamo Guardalo Guardala la merda C'è anche se sta là in alto Lui se ne accorge Allora Proviamo Fare una cosa tattica E andare lì sopra Ma non ha funzionato Mai nella vita Sto cominciando A nervosirmi un pochino E non avrei mai pensato Di dirlo In sto gioco Ero convinto Di provare altre emozioni Oh Provo l'ultima cosa Ragazzi Poi stoppiamo l'episodio E nel prossimo Cerchiamo di Fare sta cosa Ok perfetto Perfetto nulla Ok raga Basta Cercherò Di capire Come ottenere Quella stramaledetta Chiave Per oggi abbiamo fatto Abbastanza Ho fatto 20 minuti Noi Ci fermiamo Qua Spero che questo video Vi sia piaciuto Se così vi invito Come al solito A lasciare un bel mi piace A commentare E a iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto Passate i social in descrizione Per rimanere sempre Aggiornati sull'attività del canale E noi ci becchiamo In un prossimo Video This Iscrivita Alla How Grazie a tutti.